Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha nominato i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E' arrivato il decreto che dà ufficialità ai nomi che già sono circolati in questi mesi dopo l'ascesa del Presidente Pellegrino e Vertici dell'Ente. Del Consiglio fanno parte il Presidente dell'Udc di Salerno, Vincenzo Inverso, storico antagonista di Cobellis, che è stato designato dal Ministero dell'Ambiente. Lo storico Natalino Barbato, sindaco di Stio e già da tempo nel direttivo, designato dal Ministero delle Politiche Agricole. Maria Cristina Giovagnoli, attuale componente della Commissione Area Marina Protetta, designata dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. Rosario Carione, Beniamino Curcio, Cono De Lì e Emanuele Giancarlo Malatesta, designati dalla Comunità del Parco. e Ferdinando Della Rocca, presidente del Club Alpino Italiano originario di Cava, designato dalle Associazioni di Protezione Ambientale. Dopo le sollecitazioni che nei giorni scorsi erano arrivate dal territorio al Ministro Galletti per i ritardi del decreto, si colma così quel voto di ufficialità che stava impedendo di avviare in pieno le attività del nuovo ente parco. Oltre alle intenzioni, più volte espresse dal presidente Pellegrino, di essere operativi e di dare il via ad un nuovo corso, ora ci sono anche tutte le carte regola e nei prossimi giorni potrebbe arrivare già la convocazione del primo consiglio. La squadra è completa, detto Pellegrino, siamo consapevoli che abbiamo una grande opportunità per far ripartire un territorio ricco di risorse. Abbiamo il sostegno del Governo e della Regione Campania e questo ci fa essere più determinati nell'azione da portare avanti. Formulo gli auguri ai neoconsiglieri per un lavoro che sarà certamente proficuo e impegnativo, ma al tempo stesso stimolante.